ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di progressioni in modo particolare vediamo nella pratica come andare a creare una progressione sugli esercizi di isolamento partiamo spiegando cosa si intende per progressione una progressione è un aumento progressivo dello stress sui muscoli e sul sistema nervoso che porta a guadagni di forza o a un aumento di massa muscolare essenziale inserire delle progressioni perché dopo i primi tempi in cui i miglioramenti sono abbastanza naturali e facili anche senza un particolare programma dopo un po di tempo che ci alleniamo è fondamentale seguire un protocollo che ci permetta di provare nel tempo portarci a casa sempre qualcosina in più il vecchio detto carica un po di più quando riesci può andare bene all'inizio della nostra carriera in palestra ma con il passare del tempo se non abbiamo una scheda che ci obblighi a spingerci oltre i nostri limiti sarà davvero difficile continuare a migliorare le principali progressioni sono cinque la prima progressione di carico nell'arco di un determinato periodo di tempo che può essere la durata di una scheda aumento il carico quindi per esempio la settimana 1 faccio un 3x10 con 50 kg anche la settimana 2 la settimana 3 faccio una progressione passo a 52 kg e mezzo così come la settimana 4 la settimana 5 aumento ulteriormente passo a 55 kg spesso per progredire è essenziale andare a modulare però anche le ripetizioni quindi è una progressione di carico a tutti gli effetti anche questo schema che vediamo settimana 1 e 2 3x10 con 50 kg la settimana 3 e 4 abbassiamo le ripetizioni e passiamo a 55 kg la settimana 5 6 abbassiamo ulteriormente le ripetizioni e passiamo a 60 kg passiamo alla progressione di volume in questo caso viene aumentata la mole di lavoro inteso come o più serie o più ripetizioni quindi settimana 1 e 2 3x10 con 50 kg la settimana 3 4 4x10 con 50 kg la settimana 5 aumentiamo ancora di una serie quindi 5x10 con 50 kg oppure andiamo a vedere come creare una progressione di volume aumentando le ripetizioni quindi settimana 1 e 2 3x10 con 50 kg settimana 3 4 3x11 quindi faccio una ripetizione in più a parità di carico la settimana 5 6 faccio un'ulteriore ripetizione in più 3x12 con 50 kg passiamo poi alla progressione di densità nell'arco di un determinato periodo di tempo viene eseguito lo stesso lavoro ma in un tempo minore quindi i recuperi saranno più bassi all'avanzare delle settimane settimana 1 e 2 3x10 con 50 kg riposiamo due minuti la settimana 3 e la settimana 4 sempre un 3x10 con 50 kg ma passiamo un minuto e mezzo di riposo le ultime settimane la 5 e la 6 sempre un 3x10 con 50 kg e dobbiamo provare a farle solamente con un minuto di riposo poi abbiamo una progressione di tecnica non aumento nel carico nel volume nella densità ma semplicemente eseguo l'esercizio meglio e quindi lo stimolo sarà maggiore facciamo un esempio sullo squat se a inizio scheda faccio un 5x5 con 60 kg ma la cosciata non è della giusta profondità oppure in fase di risalita faccio una schienata e a fine scheda faccio sempre un 5x5 con 60 kg ma con una buona cosciata e senza schienare questa è una progressione a tutti gli effetti passiamo adesso alla progressione di intensità percepita o di effort nell'arco di un determinato periodo di tempo viene eseguita una determinata mole di lavoro in modo sempre più intenso inteso come avvicinamento raggiungimento e superamento del cedimento quest'ultima è quella di cui parleremo tra poco una premessa importante prima di proseguire una progressione è valida solo se c'è un mantenimento di una tecnica corretta se per progredire per esempio sul carico cominciamo a rovinare la tecnica esecutiva andiamo a fare dei compensi o a diminuire il range di movimento ecco quella progressione non è reale stiamo provando a progredire su un fronte carico volume ma stiamo peggiorando su un altro più importante che è appunto la tecnica questa condizione si verifica molto spesso se il peggioramento tecnico è marcato vuol dire che non siamo ancora in grado di progredire al contrario però non bisogna essere schiavi della tecnica all'aumentare del carico per esempio soprattutto nella prima fase della nostra carriera in palestra piccole sbavature tecniche piccoli compensi oppure rom leggermente minori possono essere ammessi l'entità di questi errori però deve essere minima nel nostro metodo di lavoro selezioniamo due o tre esercizi su cui progredire nell'arco del tempo a livello di volume e carico questi esercizi sono quelli che si prestano bene per questo tipo di lavoro facciamo qualche esempio oltre ai classici panca scuote stacco spinte manubri su panca piana inclinata chest press militari press spinte in alto per le spalle trazione lat machine tutti i rematori e per le gambe per esempio pressa e iptrust stacco rumeno questi esercizi si prestano bene alle classiche progressioni di volume e di carico facciamo un esempio di un protocollo che usiamo molto spesso e che funziona prendiamo come esempio una progressione sul medio periodo sul rematore con t bar quindi la settimana 1 faccio un 3x10 con 40 kg settimana 2 passa 4x10 settimana 3 4x10 settimana 5 6 5x10 quindi vedete ho fatto una progressione di volume nelle settimane a livello di serie poi andrò a fare una progressione di ripetizioni sempre a parità di carico non mi deve importare troppo di aumentare i carichi passo a un 4x11 4x11 5x11 e 5x11 quindi vedete che le prime 10 settimane le ho impiegate per fare delle progressioni di volume adesso andiamo a delle progressioni di intensità di carico quindi andremo a fare nella settimana 11 un 3x10 però con 42 kg e mezzo quindi vedete che abbiamo abbassato sia le serie che le ripetizioni ma abbiamo aumentato il carico settimana 12 4x10 settimana 13 facciamo un ulteriore aumento di carico abbassando sempre le ripetizioni 3x8 con 45 kg settimana 14 4x8 la settimana 15 vado a aumentare ulteriormente il carico vado a fare un 3x6 e poi un 4x6 la settimana 18 con 47 kg e mezzo questo è un esempio di progressione mista volume e carico che si addice bene per gli esercizi elencati prima prima di proseguire ragazzi vi ricordo che se volete allenarvi anche voi con queste logiche con un programma strutturato sul breve medio e lungo periodo potete entrare in vathlet program la nostra web app di allenamento abbiamo un programma sia per uomo che per donna sia per la palestra che per long gym trovate il link qui in alto e in descrizione sugli esercizi di isolamento non possiamo impostare delle progressioni di questo tipo come avete visto abbiamo fatto ben tre aumenti di carico immaginate ora di fare questa cosa su un curl con manubri su un push down su delle croci ai cavi sul curl è praticamente impossibile farlo se ci pensiamo è improbabile passare da 10 kg a 16 kg con una tecnica corretta considerando che i kg dei manubri vanno di due in due in questi esercizi poi il carico è del tutto secondario e quello che conta è solo una buona connessione mente muscolo e un perfetto isolamento del muscolo target il carico va assolutamente in secondo piano come possiamo quindi andare a dare uno stimolo crescente nel tempo in questi esercizi possiamo impostarci delle progressioni di intensità percepita che abbiamo visto prima quindi a parità di carico andiamo a aumentare il grado di effort andando a inserire delle tecniche di intensità strada facendo che ci permettono di superare il cedimento muscolare e quindi dare uno stimolo crescente all'avanzare delle settimane vediamo qualche esempio vediamo uno schema su cinque settimane su un curl con manubri la prima settimana faccio un 4 per max con un 10 rm quindi quel carico che mi permette di fare nella prima serie 10 ripetizioni nella seconda settimana cosa faccio un 3 per max sempre con lo stesso carico e nella quarta serie ci vado ad aggiungere uno stripping quindi faccio le mie ripetizioni abbasso il carico di un 30 per cento e riparto subito con il carico più basso e vado a cedimento la settimana 3 le serie in stripping diventano due quindi diventano due serie classiche più due serie in stripping la settimana quattro vado a fare una serie classica e tre serie in stripping e l'ultima settimana vado inserire lo stripping su tutte quattro le serie quindi vedete che il grado di fatica di effort aumenta all'avanzare delle settimane un secondo esempio questa volta possiamo pensare a delle croci ai cavi la prima settimana faccio un 4 per max con un 12 rm la seconda settimana faccio un 2 per max con 12 rm poi le altre due serie cosa faccio due per max più ripetizioni parziali quindi vado a cedimento quando non ne ho più proseguo con delle ripetizioni parziali la settimana 3 faccio una serie classica per max con un 12 rm e vado a fare tre serie in cui aggiungo delle ripetizioni parziali la settimana quattro diventano tutte quattro le serie in questo modo quindi 12 ripetizioni più max ripetizioni parziali per finire nella settimana 5 andiamo a aumentare ulteriormente l'effort faccio quattro serie per max con 12 rm in tutte le quattro serie vado inserire delle ripetizioni parziali e in più ci aggiungo anche uno stripping quindi 12 ripetizioni quando non ne ho più parto con delle ripetizioni parziali quando non riesco più neanche a fare le parziali abbasso il carico di un 30 per cento circa e vado ancora a cedimento con un carico più basso ultimo esempio sempre su un esercizio di isolamento ovviamente su un push down al cavo alto per i tricipiti settimana 1 3 per max con 10 rm la settimana 2 faccio un 3 per max e inserisco ad ogni serie una tenuta isometrica fino a completo cedimento la settimana 3 faccio sempre un 3 per max con 10 rm aggiungo sempre la tenuta e questa volta aggiungo anche uno stripping quindi ripetizioni complete quando non ne ho più mi fermo in isometrica quando non ne ho più in isometrica parto con uno stripping quindi abbasso il carico di un 30 per cento e riparto la settimana 4 vado a fare due stripping quindi ripetizioni più tenuta faccio uno stripping vado a cedimento abbasso ancora il carico e vado a nuovo cedimento con un carico più basso la quinta settimana faccio un lavoro davvero impegnativo vado a fare sempre le mie 10 ripetizioni faccio la mia tenuta isometrica faccio i miei due stripping e alla fine del secondo stripping vado a inserire delle mezze ripetizioni fino ad andare a cedimento completo abbiamo visto quindi dei classici esempi possono essercene veramente davvero tanti per andare a creare un'alta intensità percepita sugli esercizi di isolamento su quegli esercizi in cui è molto difficile nel tempo andare a creare delle progressioni quando arriviamo al nostro limite su questo tipo di esercizi è molto complesso aumentare ancora i carichi nel tempo e quindi può essere interessante a cercare di dare stimoli maggiori inserendo appunto delle progressioni di intensità percepita di effort quindi ragazzi come sempre mettete tutto in pratica ricordatevi sempre di battezzare degli esercizi target in cui andiamo a fare delle progressioni di volume di carico nel tempo dobbiamo diventare più forti nel tempo e negli esercizi che non si prestano bene a questo tipo di progressioni abbiamo sicuramente un'arma in più che quella che abbiamo appena visto noi ci vediamo al prossimo video